Siamo a Veneri nel Comune di Pescia, una frazione del Comune di Pescia, per parlare con uno dei candidati che si presenta alle prossime elezioni del 14 e 15 di maggio. Siamo con Riccardo Franchi, candidato sindaco per la lista Uniti per Pescia, sostenuto dalle liste per Riccardo Franchi sindaco, Pescia di tutti, e dal Partito Democratico. Ovviamente con sé anche alcuni dei candidati consiglieri alle prossime elezioni. Allora, siamo a Veneri, c'è un motivo per cui siamo a Veneri, è una frazione, è un'attenzione che voi date, è una priorità quella di dare attenzione alle frazioni? Sì, noi siamo qui non a caso perché Veneri è un'importante frazione periferica del nostro Comune per troppo tempo, da troppo tempo abbandonata. Quindi il nostro impegno, lo abbiamo scritto anche nel programma, è di risolvere tutti i problemi che purtroppo assillano da molto tempo il nostro Comune, partendo anche dalle periferie e Veneri ne è purtroppo un esempio di trascuratezza e noi vogliamo in primis andare a lavorare sulle frazioni Veneri, Alberghi, Pescia Morta, Macchia di San Piero, le frazioni della Montagna, il Centro Storico, tutte le frazioni del nostro Comune, partendo da quello che per troppi anni sono state abbandonate, partendo dal decoro urbano, dall'arredo urbano, dalle cose semplici che poi il cittadino chiede come priorità. E cosa chiedono a Veneri? Allora, a Veneri, come dicevo prima, per troppo tempo è stato abbandonato e lasciato a se stesso. Pensate che Veneri, pensiamo, che Veneri è alla sede del Carnevale, uno dei più importanti a livello della Toscana, direi, che da tantissimo anno vive, quindi questa frazione ha voglia di vivere, di impegnarsi per il bene di tutta la comunità. Quindi partendo da lì, dal cittadino, dall'ascolto, dalla contivisione, da concretizzare l'impegno che il cittadino in primis mette per la cura e la promozione del proprio territorio, noi vogliamo stargli accanto e questo è un esempio di star vicino al cittadino e interessarsi delle cose primarie del nostro territorio. Veneri, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, è un po' al centro dell'attenzione non solo locale ma anche nazionale perché il governo sta pensando, è un'ipotesi, quella di realizzare un CPR all'ex carcere appunto di Veneri. Voi vi siete già espressi in modo molto chiaro dicendo che siete contrari, lo confermate e perché siete contrari? Allora, lo confermiamo innanzitutto anche noi abbiamo appreso dai giornali, come tutti quanti, quello che è questa notizia che ha lasciato tutti i cittadini, tutta la nostra comunità a sballordire, più che altro perché non se ne è mai parlato, quindi non credo che sia giusto che se ne venga a conoscenza dai giornali, quindi credo che bisogna confrontarsi con la cittadinanza, come abbiamo detto, una posizione noi l'abbiamo già presa, siamo contrari al CPR e a questo tipo di soluzioni, soprattutto in una zona che ha bisogno di essere rilanciata e riqualificata, credo che bisogna partire da altri punti per la nostra comunità, non da un CPR. Quindi confermiamo la nostra assoluta contrarietà a questo tipo di strutture. Si parla di frazioni, ovviamente non c'è solo Veneri, c'è anche Collodi, che è un importante centro conosciuto per Pinocchio, ma è comunque un centro turistico. Il problema fondamentale di Collodi è la viabilità. Ci sono dei progetti per oltrepassare il centro di Collodi, il problema sono i mezzi pesanti che vanno verso le cartiere di Villa Basilica. Progetti che voi come sosterrete e quale eventualmente è la vostra posizione su questo? È chiaro che come aspetto primario dobbiamo confrontarci con il comune, quindi la provincia di Lucca, il comune di Capandori, con il comune di Villa Basilica, con la provincia di Pistoia e di Lucca, perché dobbiamo necessariamente trovare una viabilità alternativa che bypassi il centro di Collodi. In primis ti è toccato il tema del turismo, è importante, ma vogliamo parlare anche dei residenti, perché anche loro meritano una salvaguardia. Attualmente vivere a Collodi è veramente difficile perché mezzi, decine e decine di mezzi pesanti tutti i giorni attraversano l'intero centro, mettendo anche a rischio chiaramente la sicurezza dei residenti, nonché dei turisti che frequentano Collodi. Mi riallaccio a questo perché tra poco inizieranno dei lavori sul ponte di Ponte Allabate e ci troviamo ancora ad oggi a non sapere a non avere un progetto di viabilità alternativa. Quindi anche lì sarà priorità della nostra amministrazione mettere a un tavolino i cittadini, i residenti, insieme agli altri, come ho detto prima, enti interessati per creare, purtroppo siamo qui a rincorrere, un'alternativa, una viabilità alternativa che riduca i disagi. Però pensiamo se ad oggi, negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, si fosse arrivato già a una soluzione di viabilità alternativa, molto probabilmente oggi non saremo qui a Venere a parlare di viabilità, non saremo a Collodi di parlare di viabilità. E mi riallaccio anche a Collodi perché un altro aspetto importante che dicevamo di Venere è il decoro urbano anche a Collodi, città turistica, necessita di una maggiore attenzione per la viabilità dei residenti ma per attrarre maggiormente anche i turisti. È anche vero che nel caso in cui prenda forma, prenda vita il progetto di una viabilità alternativa passeranno comunque degli anni. Che cosa è più importante fare a Collodi nell'immediato? Nell'immediato come in tutte le frazioni che noi riteniamo molto trascurate, credo che si debba ripartire come dicevo prima, non voglio ripetermi, ma è la cosa che ci chiede il cittadino nei vari incontri. Quello dell'ascolto, perché il cittadino chiede di essere maggiormente ascoltato, di condividere con lui quelle che sono le problematiche e di poi concretizzare, partendo dalle piccole cose, le piccole cose ma importanti. Guardate che il cittadino non ha bisogno di grossi proclami, ha bisogno di credere in un'amministrazione con cui ha un continuo confronto ma soprattutto attento a risolvere le problematiche, che sono quello del decoro urbano, quello di una viabilità, quindi di una sicurezza delle strade, della pubblica illuminazione, quello delle esigenze primarie, dei punti di aggregazione. Questo ha bisogno il cittadino in primis come priorità. Può insieme costruire un percorso importante per un rilancio, in questo caso di Collodi. Saliamo un po', andiamo in montagna. La montagna, voi nel vostro programma avete definito la montagna come un'opportunità per rilanciare la città. In che termini? Molte volte, l'ho già detto ma lo ripeto, perché andando a parlare con i cittadini della montagna ci fanno notare quanto la montagna venga utilizzata molto come spot, soprattutto nel periodo elettorale. Noi bisogna, credo anche qui, partire dalle piccole cose, da condividere con i cittadini della montagna quelle che sono le loro priorità. E anche qui si va su una priorità della viabilità. Si va sul decoro urbano, il taglio dell'erba, perché oggi è difficoltoso raggiungere la montagna in alcuni periodi dell'anno perché non viene tagliato il verde pubblico. E insieme il problema dei trasporti, perché in montagna alcune frazioni non sono servite a sufficienza dai mezzi pubblici. Lì bisogna lavorare anche con le associazioni di volontariato, le grandi associazioni che ci sono sulla montagna, grazie a loro. Voi parlate di trasporto pubblico a chiamata, che significa? Trasporto pubblico a chiamata che significa anche andare ancora più nel dettaglio della singola esigenza che ha il cittadino. Perché molte volte ci sono delle esigenze particolari che può avere magari l'anziano, che magari ha difficoltà a muoversi, che deve andare a pesce a fare un esame medico, che deve andare a ottenere una prestazione medica. E magari ci sono degli orari che non coincidono con la fluidità di questi servizi. Noi vogliamo stare ancora in modo più capillare, vicino al cittadino, e lì con l'aiuto molto anche del mondo del volontariato, delle associazioni con cui dobbiamo ringraziare, dobbiamo consolidare sempre di più il rapporto per entrare proprio nel risolvere l'esigenza capillare del singolo cittadino. Cambiamo decisamente tema, parliamo di bilancio, parliamo di investimenti sul territorio. Ovviamente è noto a tutti ed è oramai una situazione con cui Pescia convive da tempo, la situazione del bilancio comunale che è stato anche sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti. È necessario però comunque realizzare degli investimenti sul territorio per far fronte alle necessità dei cittadini. Come riuscirete a far combaciare queste due cose? Come convivono le due cose? Allora, come prima cosa noi l'abbiamo definita un'operazione verità perché il nostro primo impegno sarà quello di far chiarezza sulla situazione economica in cui verte il Comune di Pescia e di informare i cittadini. Cioè, ciascun cittadino deve sapere in realtà qual è lo stato economico perché prima di iniziare un progetto, e siccome noi abbiamo voglia di iniziare un progetto insieme ai nostri cittadini, come il buon padre di famiglia, come una famiglia, prima accertiamoci dello stato reale economico e poi di lì partiamo perché non bisogna rilanciare una città quindi non ci dobbiamo fermare al di là di quella che è la situazione economica dell'ente ma prima cosa essere chiari con i cittadini e trasparenti e insieme trovare anche, perché l'abilità di un'amministrazione credo sia importante, è quello di individuare anche finanziamenti europei, PNRR, regionali e quant'altro, per rilanciare Pescia. Perché Pescia ha bisogno di essere rilanciata e dobbiamo tutti adoperarci e non nascondersi dietro un reale problema. Però il cittadino deve essere informato. In sostanza, laddove non arrivano le casse comunali, si dovrà attingere, dovrete attingere a finanziamenti esterni che possono essere regionali, europei. Necessariamente lì sta anche nella credibilità di un'amministrazione, di un lavoro di squadra insieme agli altri enti, insieme perché dobbiamo tutti raggiungere gli obiettivi che ci sono prefissati, ripeto, per il rilancio di Pescia. I cittadini di Pescia meritano questo, quindi merito una massima attenzione e impegno per andare oltre l'ostacolo e risolvere questi problemi che da moltissimi anni, purtroppo, sono ancora incompiuti. Lei vede nella caratterizzazione del territorio pesciatino come distretto florovivaistico, non solo come l'aspetto produttivo, ma anche come identità, la creazione di un marchio per promuovere il territorio. Come lo svilupperete e come lo promuoverete questo marchio? Sì, innanzitutto siamo partiti nel nostro programma da dire che una delle nostre priorità sarà subito intervenire sul mercato dei fiori, sul MEFIT. Ci sono due milioni pronti da essere spesi, due milioni della regione con le risorse, un milione di euro del comune di Pescia insieme, quindi realizzare immediatamente, completare i lavori per la messa in sicurezza del mercato dei fiori. Questo è un primo punto di partenza, perché lì dovrà proseguire il nostro, perché sappiamo già ora che non sono sufficienti a rilanciare definitivamente il nostro mercato dei fiori. Però dobbiamo valere e avvalerci di quelle che sono le eccellenze del nostro settore, delle numerose aziende, del settore florovivaistico, del nostro comune, insieme a loro, insieme trovare la giusta strada per rilanciare con un marchio che identifichi, che ritorni a identificare Pescia per quello che era una sua priorità. Viene chiamata non a caso la città dei fiori. Ecco, ricordiamoci di questo, con il rilancio magari di alcune iniziative, viene in mente il rilancio della Biennale, che non deve essere l'unico, però deve essere anche di lì, si deve ripartire per rilanciare il nostro marchio. La sanità, sanità si identifica spesso con l'ospedale, ma non è solo l'ospedale, perché Pescia, parlando in modo simbolico, diciamo non è molto presente nella stanza dei bottoni. Sarebbe necessario, secondo voi, creare una casa della comunità a Pescia? Noi crediamo che uno dei problemi sia proprio questo, un aspetto di credibilità. il comune di Pescia, un'amministrazione di Pescia, visto che all'onore di avere il presidio che riguarda ospedaliero di tutta la Val di Nievole, non solo di Pescia, quello di rilanciare e di rendere credibilità a una struttura, soprattutto insieme agli altri sindaci del territorio, insieme di concerto con quelli che sono di attore principale, l'ASD e la Regione, perché noi dobbiamo rilanciare, l'ho detto anche in precedenza, rilanciare la nostra struttura, difenderla e rilanciarla, partendo dalla salvaguardia dell'incremento dei servizi all'interno del nostro ospedale, ma non solo, perché è importante incrementare i servizi territoriali collegati alla nostra struttura. Noi abbiamo parlato e abbiamo condiviso quello di rilanciare, partendo anche dal settore pediatrico, perché noi crediamo che dobbiamo partire anche da questo aspetto, quindi territorio, rilanciare la medicina, i servizi sociosanitari, a partire dall'aspetto anche pediatrico, perché Pescia merita di ritornare ad avere anche un supporto, un presidio pediatrico sul proprio territorio. Lo slogan della vostra campagna elettorale è una storia tutta nuova. Cosa c'è di nuovo nella vostra coalizione? A partire dal candidato, perché un candidato nuovo per Pescia, ma soprattutto una squadra tutta nuova per Pescia, fatta di persone che per la prima volta si avvicinano al mondo della politica territoriale. E' questo che a me è stupito. Noi siamo una squadra, una squadra di 48 persone motivate che si sono detti cosa posso fare in prima persona per migliorare il mio comune e rendere migliore la vivibilità del nostro comune. E siamo partiti, ci siamo confrontati prima di decidere di presentarsi alle cittadinanza e tre parole ci hanno accomunato. Innanzitutto la trasparenza, chiarezza e credibilità nei confronti che dobbiamo avere o ciascuno di noi una squadra nei confronti della cittadinanza. E poi entrando ancora più nel concreto, quello di ascoltare, perché il cittadino oggi ci chiede che ha bisogno di essere ascoltato. Non deve vivere da spettatore, deve vivere da attore, deve poter confrontarsi con l'amministrazione, confrontare e condividere le idee, i progetti, ma soprattutto deve aver bisogno di vedere realizzati, quindi di vedere concretizzati i propri progetti. Noi ci presentiamo con questo nostro, credo, con questa nostra volontà. Guardate, pesce ha bisogno di normalità, non ha bisogno di, per troppi anni ha vissuto di promesse, di forse, di eccessivi proclami. Pesce ha bisogno di normalità, perché solo attraverso la normalità, la credibilità e la concretezza, e noi siamo qui per questo, possiamo rilanciare la nostra città, perché ce lo chiedono i cittadini. Quindi noi crediamo, vogliamo essere insieme a cittadini, perché, come dice il nostro slogan, insieme scriviamo una storia, una storia tutta nuova. Grazie allora a Riccardo Franchi e ai candidati in Consiglio Comunale. Riccardo Franchi si presenta alle prossime elezioni come candidato sindaco per la lista Uniti per Pesce, sostenuti dalla lista Riccardo Franchi, Sindaco, Pesce di tutti e dal Partito Democratico. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti.